Invito intanto sul palco la persona che avrà l'incarico di guidarci nell'esplorazione dell'universo veragheno che è Alice Diacono, autrice di un libro... Eh no, devi stare sull'altra. Cioè il maschio che ti impone di stare sull'altra sedia. Siediti sull'altra sedia. Autrice di un libro, Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento, che vi invito ad andare a cercare, ve lo divorate in dieci giorni, uno dei libri più travolgenti che io abbia letto di recente, travolgente è il termine migliore per indicarlo, editora La Battaglia, che è stato tra l'altro presentato qua un mese prima che scoppiasse la pandemia e poi ha ricevuto un sacco di menzioni. Dopodiché mi faccio da parte, è il momento di cedere la parola a Vera Gheno. Eh no, per la registrazione, però... Sì, quindi tutto ci vuole. Purtroppo sì. Va bene. Grazie Vera. Vera ha tanta pazienza. Non mangio, non mangio giovani maschi di solito, posso consumarli ogni tanto, è sempre una cosa occasionale. Buonasera, buonasera, grazie qui in questo numero eccezionale, ovviamente ho preso in mano il microfono, il microfono è iniziato a funzionare a tratti, perché probabilmente è un microfono patriarcale, però ce ne faremmo una ragione. Ti lascio la parola, così dico meno cazzate. Va bene. Ma, allora, questa finalmente serata di pioggia a Stigiana, benvenute a tutte e tutti, anzi forse dovrò mi aderire a tutte. Ma prima di arrivare, diciamo, alla parte polemica, di cui avremo ampiamente modo di parlare magari, volevo partire da una cosa che ho sentito, perché ho ricevuto l'invito per fare da moderatrice, diciamo, qualche settimana fa, e preso dall'inizio dell'anno scolastico mi sono guardata un sacco di video e tra tutte le cose appunto più polemiche o più politiche, forse, come dicevo primavera, la cosa che mi ha colpito di più è in un video in cui lei diceva appunto che l'italiano in realtà è una lingua giovane, che è parlata effettivamente solo dagli anni 60, 50-60, e che prima invece era solo una lingua letteraria. Quindi effettivamente negli ultimi, è stato negli ultimi 50 anni che ha cominciato a svilupparsi, a sperimentarsi appunto, nella realtà del parlato, e questa cosa mi ha colpito perché nonostante io abbia studiato lettere, fatto l'università, insegno letteratura a scuola, non ci avevo mai pensato, e mi ha, non so, è stato un po' come un insight proprio, e quindi appunto volevo partire da qua proprio perché, come dire, in una lingua giovane come è possibile che ci siano già tutti questi conservatori? Ma forse proprio per quello, nel senso che appunto siccome siamo giovani parlanti dell'italiano, siamo anche molto territoriali, ecco, rispetto al nostro italiano, lo sentiamo come una cosa molto personale, molto identitaria, e non c'è ancora, è un po' come una giovane relazione, no? È una giovane relazione in cui tendenzialmente si è molto gelosi e molto possessivi nei confronti dell'altra persona, no? Poi quando uno ha una relazione più stabile, ricordatevi che ho una certa età, no? Quindi, insomma, certe cose le conosco, quando si ha una relazione un po' più stabile, rodata, magari uno si rilassa un po', non è che sta a guardare ogni movimento della persona che è accanto, no? Si fida, e diciamo che la nostra relazione con l'italiano è un po' così, un po' percorsa, venata di gelosie, di cose da giovane coppia, e questo ci condiziona nel modo in cui noi ci relazioniamo appunto con la nostra lingua, anche perché in questo non aiuta la scuola, devo essere sincera. Ora, tu insegni, e hai insegnato, hai detto, al liceo, e adesso insegni in un istituto professionale, comunque superiori, e mi confessi candidamente che non avevi mai pensato a questo, non è una cosa strana, non è una colpa tua, è che è qualcosa, una riflessione che spesso manca dal percorso scolastico, anche universitario delle persone, ma se uno non riflette su questo aspetto un po' di gelosia, di identitario appunto della lingua, succede che poi a un certo punto tu dai per scontato che la lingua funzioni in un certo modo, che si sia formata anticamente e poi sia rimasta sempre uguale per dei motivi chissà quali, e invece la spiegazione è questa, la scuola, io vorrei ricordare un dato oggettivo, noi quando c'è stata l'unità d'Italia, per chi di voi c'era, come me, nel 1861 quando c'è stata l'unità d'Italia c'era il grosso problema che la stra 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 grande maggioranza degli italiani non era italofona, De Mauro parla del 2,5% degli italiani che parlavano italiano, che poi erano quelli che ricadevano in quel famoso triangolo dell'Italia centrale dove per forza, io vivo a Firenze, la hula di rinascimento, la hula della lingua italiana, ecco noi lì parlavamo già la cosa più vicina all'italiano nazionale, ma appunto era una questione di essere nati nel posto giusto. La grande necessità era quella di insegnare l'italiano agli italiani, diceva Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia bisogna fare agli italiani, non disse esattamente questo ma insomma il riassunto, il recap è questo qua. Come fare gli italiani insegnando loro la lingua nazionale, come si insegna la lingua nazionale? Inoltre i tre modi, uno la scuola, due la leva che mischiava i giovani, il famoso militare a Cuneo che è diventato mitico, per cui il ragazzo siciliano che si trovava a Cuneo, il ragazzo cunese che si trovava a Benevento e così, queste persone giovani avevano la tendenza a cercare una coine, una lingua comune che era proprio l'italiano, e la terza cosa erano i media, quindi inizialmente i giornali, poi la radio, poi arriva la televisione. E la televisione fa entrare nelle case degli italiani non solo la voce, che all'epoca era molto curata, cioè c'erano i corsi di orto e pia, per chi lavorava in Rai e Rì, quindi bisognava pronunciare tutte le cose nella maniera corretta, non come adesso che si sentono tanti accenti, non che sia un male, e è però, diciamo che si tendeva più verso un italiano canonico. Gli anni 60 del 900 sono gli anni in cui la televisione inizia a trasmettere in maniera massiccia, e quindi finalmente gli italiani sentono non solo la voce, ma anche vedono la prossemica, la gestualità, come si parla, ma anche come si vive fisicamente l'italiano, e quello è il salto di qualità. Tutti conoscerete, non è mai troppo tardi, il programma del maestro Manzi, che aveva la fissa di insegnare l'italiano a quelli che erano caduti fuori, cioè non erano stati lambiti dalla scolarizzazione, e quindi insegnare l'italiano agli anziani. Allora, il problema è che poi l'insegnamento dell'italiano a scuola non si è mosso tanto da quella prospettiva emergenziale, cioè diamo agli italiani gli strumenti base per non dover firmare con la X per poter andare a votare, perché c'è una correlazione molto forte fra democrazia e alfabetizzazione, quindi questo poi casomai ci torniamo sopra, ma non è un caso se nei regimi si tende a abbassare moltissimo il livello della scolarizzazione media, perché così la gente sta più buona, non ha pensieri strani, non si fa film. Comunque, scusate, faccio subito una piccola chiesa politica, ma tanto ne sentirete diverse questa sera anche grazie all'alcol che mi stanno propinando dal bar. Nel senso che ormai non ho più pudore da questo punto di vista, parlo liberamente senza peli sulla lingua e se ci sono dei peli sulla lingua non sono i miei, non sono i miei, questa è una famosa battuta, vabbè, lasciamo stare. In ogni caso, nel frattempo però la società si è complessificata, la realtà che viviamo è tremendamente più complessa di quella in cui si inizia a insegnare l'italiano e quindi in realtà è dagli anni 70 che si ragiona su portare la linguistica a scuola. C'è questo documento eccezionale creato da De Mauro assieme ai gruppi Gissel, che erano quelli che intervenivano sulla scuola proprio, sull'insegnamento dell'italiano a scuola, che sono le dieci tesi per l'educazione linguistica democratica. Se le digitate, googlate, le trovate online. E lui diceva delle cose sacrosante, cioè bisogna insegnare un po' di linguistica a scuola e farsi delle domande meta, metalinguistiche. Da dove viene la lingua? Da dove viene l'italiano? Come si forma una lingua? Che cos'è la norma? Che cosa vuol dire trasgredire dalla norma? Esiste una lingua monolitica? Che cosa sono i registri? Tutte queste cose. Perché oggi ci servono. Non possiamo in realtà farne a meno. Certo, quella che tu chiami la lingua dell'egli, quella che insegno io a scuola con il Sensini, che questa grammatica è uno pseudonimo perché l'autore non ha voluto mettere il suo vero nome. È una grammatica che si usa così, penso, da trent'anni. E appunto ci sono questi esempi. Egli andò a... No, egli si recò. Esatto. Mio padre questa mattina è uscito di casa recandosi nel luogo... Cioè, questa lingua che non ha poi un corrispettivo reale, no? Quando ogni tanto la mia allora collega di social di Crusca, Stefania Giannizzotto, io gestivo Twitter, lei gestiva Facebook, adesso lei gestisce tutto, ma ogni tanto faceva i post su Facebook in cui scriveva io, tu, lui, noi, voi, loro, invece che io, tu, egli, noi, voi, essi, no? Quando faceva una coniugazione di un verbo. Ma le shitstorm che arrivavano alla Crusca, anche voi, no? L'ultimo baluardo dell'egli. Ma chi se ne frega alla fine del... Cioè, bisogna tener conto del fatto che sì, tu puoi studiare un sistema in maniera astratta a scuola, ma poi nella realtà di tutti i giorni quel sistema astratto va applicato. Facciamo un paragone molto pratico che secondo me incontrerà il vostro favore. La scuola guida, no? Allora, quando noi facciamo l'esame di scuola guida sappiamo che bisogna drive by the book, no? Bisogna esattamente fare quello che ti dice. Cioè, non, come si dice, non parcheggiare a cinque metri dall'incrocio, no? Andare dentro i limiti di velocità. Poi, nella vita reale, quando si guida, ci sono anche delle situazioni in cui tu per sfuggire a un pericolo devi accelerare, no? E devi andare oltre il limite di velocità. Oppure ci sono altre situazioni in cui devi fermarti assolutamente, piazzi le quattro frecce, non per andare a prendere il caffè, intendiamoci, però mi è capitato di star male, no? E di dovermi fermare, per esempio. Per cui cosa succede? Che io studio la scuola guida, cioè studio i libri della scuola guida, faccio l'esame di scuola guida canonicamente, dopodiché con la guida divento un po' più elastica rispetto alle regole. Non che diventi trasgressivo, per forza, no? Non è una trasgressione perenne, però interpreti un po', in maniera elastica, le regole. E con la lingua è un po' così. Cioè, una cosa è quello che ti insegna la scuola, che va benissimo, però poi nella vita di tutti i giorni può accadere, ah, di non colorare esattamente dentro le righe, da un punto di vista linguistico, ma anche di andare proprio fuori, fuori dalla norma. E va benissimo così. Cioè, la definizione stessa di norma, per esempio, norma linguistica, che trovate sull'enciclopedia Treccani, dice che la norma è qualcosa a cui le persone aderiscono, non che viene imposto alle persone, a cui aderisce la maggior parte delle persone. Quindi esiste la possibilità di sentire, e quindi di scrivere, per esempio, qual è con l'apostrofo, come faceva Pirandello, per dirne una, ma anche Sbarbaro, se non erro. Ma insomma, c'è tutta una tradizione di autori e autrici che scrive qual è con l'apostrofo da più di cent'anni. E poi, l'altra cosa interessante è che la norma è valida in un certo momento storico e in un certo luogo. Cioè, può accadere che al variare di queste coordinate, varia anche la norma. E, per esempio, questa idea della lingua che cambia, uno la dovrebbe studiare a scuola, e invece non la studia. E quindi si adombra se qualcosa rispetto al sistema valoriale linguistico che conosceva viene cambiato, perché non si può fare. Invece si può. Scusate, ho abbattuta. No, no, no. Scusate, adesso... Però io mi chiedo, cioè, se veramente, se il quale si cominciasse a scrivere... Cioè, avevo letto un meme che diceva l'Accademia della Crusca, era forse di Lercio. Sì, era Lercio, sì, lo ricordo bene. L'Accademia della Crusca dice, vabbè, scrivete qual è con l'apostrofa, andate tutti a fa un culo. A un certo punto... Sì, era una notizia di Lercio. E io mi sono sempre chiesta, ma alla fine, no? Cioè, a parte io che devo stare lì con la penna rossa, cioè, e ho bisogno della norma per questo motivo, ma chi se ne frega, voglio dire. Cioè, nel senso, nel mio intimo, quando io... C'è Cilli. Cioè, quando io voglio insegnare la letteratura, non è... Cioè, non è... Insomma, la letteratura è la grammatica. È una grande sofferenza insegnare la grammatica a scuola. È in realtà una cosa stichissima. E con queste premesse ideologiche, diciamo. Io l'ho vista sempre come quando fai le ossidoriduzioni a chimica, no? Cioè, quella parte che funziona un po' come le ossidoriduzioni, cioè, tu devi fare esattamente quei passaggi lì, oppure, non lo so, un'espressione matematica, no? Quella è la parte, è il core della norma e va benissimo. Però poi bisogna aggiungere, no? Cioè, bisogna dire, questo è il punto di partenza e non il punto di arrivo. Ora, qual è... Ora, so che ci sono molti professori in sala. E quindi io lo so che sto sfrucugliando dei nervi. Ci sono anche dei miei colleghi. Prima devo raccontare un micro aneddoto. La quantità di persone che nel corso degli anni mi ha giurato di aver incontrato il Sensini, che brava persona. Non esiste il Sensini, no? Ed è bellissimo. No, il Sensini, certo, io l'ho conosciuto personalmente. Non è vero, non esiste. Non è un nom de plume, non sai chi c'è dietro. Adesso lo sappiamo, ma è molto divertente. No, 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 no. Marcello, persona squisita. Grande persona. Sì, sì. Vabbè, comunque, potenza dell'immaginazione. No, la questione è... A cosa serve la norma? Ecco la domanda che vi volevo fare. A cosa serve la norma linguistica? Non a sopravvivere. Non è come la scuola guida. Cioè, in teoria, uno può anche fregarsene, no? Allora, qual è il senso della norma? Ce ne sono due. Allora, il primo, la norma viene costruita ex post. Cioè, la norma si costruisce in base all'uso. E quindi molto lentamente cambia, no? Ai tempi di Leopardi, lui usava dei tempi e modi verbali, tipo, abbi, facci, vadi. Oggi, se io dico, abbi, facci, vadi, invece di abbia, faccia, vada, mi prendono per fantozzi. Fantozzi batti lei, no? Quindi, com'è cambiata la norma? Una volta questo era normale, oggi non si può fare. A me hanno insegnato anche delle cose completamente campate in aria, tipo, in italiano non si può usare la doppia negazione. Non è vero. Cioè, questo era il latino, no? Che non reggeva la doppia negazione in italiano. Lo puoi dire tranquillamente. Non ho visto niente. non è che devi dire non ho visto alcuna cosa. Si può dire non ho visto niente. No, ma queste sono le cose che insegnavano anche a me e bacchettate sulle mani. C'è la maestra Francesca Mori di Panzano e Inchianti, io me la ricordo ancora, è stata una grande esperienza. Purtroppo poi l'ho persa di vista. Ma... e questo è uno, no? Quindi io osservo, cioè nel corso dei secoli, i grammatici osservano l'uso e tirano giù la norma. Che è un'operazione, se ci pensate, descrittiva e non prescrittiva. Perché la norma diventa prescrittiva? Per due motivi. Uno, in uno stato qualsiasi c'è il bisogno di insegnare la lingua ai cittadini, no? E quindi la norma serve per poter insegnare la lingua a scuola. E questa è la parte construence, La parte bella. C'è un'altra questione che solo in un mondo ideale è vero che la lingua la fanno i parlanti. Nei mondi reali la lingua la fanno alcuni parlanti. Indovinate quali? Quelli che stanno in cima alla piramide del potere. E quindi, come dice Tullio De Mauro in questi saggi bellissimi che trovate raccolti in un librone che si chiama L'educazione linguistica democratica, se vi interessa l'argomento credo sia un Carocci forse un La Terza non mi ricordo mai non La Terza comunque leggetelo perché è bellissimo ecco, lui dice la norma serve ai potenti non solo per perpetuare il potere ma anche per perpetrarlo. Quindi per decidere in maniera abbastanza prioristica che se tu non aderisci a quel modello di norma sei ignorante. E questo pensiero de Mauriano io lo trovo molto in continuità con quello che diceva Don Milani Don Milani diceva che il mondo l'ha da cambiare il povero ma dopo aver studiato perché quando il povero studia riceve i grimaldelli linguistici in grado di sfondare i luoghi del potere. De Mauro diceva proprio che la norma serve per regolare l'accesso al potere perché se tu scrivi se io avrei sei ignorante sei fuori dai circoli del potere. Oggi invece l'ignoranza va di moda. È un'altra questione non fatemi diventare troppo politica. Ma perché parla la pancia. La pancia è importante chi fa un po' di chi frequenta la medicina orientale lo sa la pancia è il secondo cervello in alcuni il terzo però vabbè lasciamo stare però no noi siamo fatti di cervello pancia cuore genitali perché secondo me un pezzo di cervello sta anche lì chi più chi meno anche lì e comunque tutta sta roba a volte convive in maniera pacifica a volte va in contrasto per esempio giusto oggi facevo uno dei mitici e pallosissimi briefing aziendali che ogni tanto mi toccano e si parlava del fatto dell'uguaglianza e allora io a un certo punto ho detto c'è un problema di nomenclatura perché parlare di uguaglianza non è corretto perché gli esseri umani non possono pensare che siamo tutti uguali cioè quando qualcuno dice no ma tutte queste cose sull'inclusione che se ne frega noi siamo tutti uguali tutte parti della famiglia umana non è vero noi esseri umani ci rendiamo conto benissimo delle diversità cioè se ci arriva uno con un colore di pelle diverso con un aspetto diverso che si presenta in maniera diversa da noi quello lo vediamo subito lo vede il nostro diciamo così cervello rettiliano cioè la nostra pancia e non ha una reazione positiva perché l'essere umano ha una parte biologica molto profonda molto basica che dice attenzione questo è diverso potrebbe essere un pericolo un po' come gli animali poi la reazione dice Telmo Pievani per fortuna è molto breve dura circa un terzo di secondo dopodiché entra l'altro cervello cioè quello proprio che abbiamo nella capoccia che ci dice vabbè no ma è solo una persona che si presenta in maniera diversa non è un pericolo però per esempio il pensare che noi siamo buoni e quindi diciamo che tutti questi discorsi sul fare attenzione alle parole siano un po' aleatori non è vero cioè noi abbiamo bisogno di arrivare ad apprezzare la diversità e la lingua può essere un valido aiuto in questo perché ci fornisce un po' delle linee guida quindi tutto si tiene alla fine potere lingua diversità necessità di cambiamento dove siamo oggi è per questo che io sono anche così insistente nell'andare in giro e incontrare le persone perché per il lavoro che faccio mi vengono appiccicate addosso moltissime etichette ma io sono molto meno come si può dire estremista di quello che può sembrare da fuori cioè non vi dirò mai tu sbagli a parlare in un certo modo a usare certe parole casomai cerco di accompagnarti nella direzione di comprendere di avere più consapevolezza di perché usi quelle parole e se se ne possono usare altre per esempio infatti la domanda che ti volevo fare era proprio questa com'è essere la paladina dello schvat uomo al grado ma io io sono ho una sono cintura nera di shitstorm beh intanto lavorare per sette anni come twitter manager della crusca mi ha insegnato tantissimo per ovvi motivi perché oggi sono soprattutto conosciuta come a torto come la paladina dello schvat e su questo poi avrò una cosa da dire ma io prima di questo mi sono beccata tutto il mappazzone petaloso io sono anche la paziente zero dell'infezione petaloso perché il tweet da cui poi è nato tutto il casino virale l'ho scritto io per la crusca e quindi questa è una cosa mi aiuta il fatto che sono quest'anno 27 anni che sto in rete sono entrata nel 95 sono entrata nei news group nei gruppi di discussione telematici e le ossa rispetto all'odio rispetto alle shitstorm rispetto a tutta sta roba me lo sono fatto lì ed è stata una grande palestra di vita devo essere sincera dopodiché non sono mai uscita dai social cioè mi sono ritrovata sui vari social e tutto sommato mi sono sempre trovata bene però all'aumentare del pubblico io non ho numeri da influencer cioè ho 50-60 mila follower su facebook e instagram ma sono dei numeri piccolissimi cioè ieri a Lugano mi sono incrociata con Cammy Hawk no lei è un influencer io sono la lustra scarpe diciamo così dell'internet ma va bene così cioè non è il focus non ho il business di essere influencer però appunto dei numeretti all'aumentare di questi numeri in ogni caso ho aumentato il numero di persone che mi vengono a insegnare il mestiere il famoso mansplaining no vede signora vera la lingua italiana grazie grazie del minchia minchiairimento adesso possiamo tutti andare mansplaining tradotto in italiano minchiairimento possiamo andare a casa tutti felici tu hai ricostituito il tuo il tuo ruolo di maschio alfa io torno a cucinare e siamo tutti felici ma questo è un grande classico comunque è abbastanza naturale che in un sistema dei media fatto come quello in cui viviamo che polarizza qualsiasi questione da cent'anni a questa parte si cerchi il paladino e l'anticristo no e quindi io sono in contemporanea la madonnina dello schwa per chi è interessato a questa cosa e come dire il bel zebu dello schwa per chi invece è avverso alla questione io non sono dell'uno dell'altro cioè io sono una persona che da un quarto di secolo studia i margini linguistici ho iniziato proprio con le comunità virtuali quando ancora in Italia non ne parlava nessuno questo lo dico assolutamente senza senza hybris cioè io ho scritto la tesi di laurea nel 2000 quindi un botto di tempo fa 2000-2002 poi sono stati gli anni erano altri tempi sulla lingua dei come era la definizione come gruppi di discussione telematici che erano i news group quando per la prima volta ho presentato alla mia prof il progetto di laurea la sua risposta è stata ma questo fenomeno delle comunità virtuali è una sciocchezza destinata a passare in un paio d'anni un fuoco di paglia e io dissi non credo no studiamo un sacco di roba in inglese Howard Reingold Virtual Communities è uno dei libri più belli sull'argomento ma di 25 anni fa e avevo la sensazione che questa roba era qui per rimanere ho avuto ragione no quindi ho un certo interesse per i margini che siano le comunità dei tossici dei gamer dei pokeristi la comunità LGBT plus io l'ho incontrata in questo modo qui no quindi ragionando sui margini linguistici tanto per citare Bell Hooks che oggi va anche molto di moda ho incontrato questa comunità che sta lavorando tantissimo sull'autoemersione linguistica e quindi per me è stato abbastanza naturale ma chi non mi sopporta chi mi denigra dice lo faccio per i soldi una marea di soldi una marea di soldi se uno vuole diventare miliardario diventi paladino dello Schwab devo dire che sicuramente tira a livello aziendale adesso tutte le aziende vogliono diversity equity and inclusion per cui certo sono argomenti che poi pagano anche però non è questo il senso della cosa io ci credo davvero in queste istanze faccio per i soldi non ho competenze questo me lo dicono continuamente no sono solo 27 anni che studio certi argomenti a rondello ma va bene che ne vuoi dire ho cambiato un punto di vista una volta e fino a non tantissimi anni fa ero dell'idea di di dover sempre spiegare tutto a tutto cioè di cercare di intercettare anche l'odiatore e di ammansirlo adesso la quantità di gente che mi sfracella i maroni è talmente grande che ho deciso di cambiare impostazione allora la divulgazione funziona con chi è interessato a un argomento non occorre convertire chi la pensa in maniera del tutto diversa il senso della divulgazione su questi temi per esempio sul linguaggio ampio è a mio avviso quello di creare una consapevolezza sociale tale che nel corso del tempo certi comportamenti linguistici e di conseguenza culturali e sociali diventino inaccettabili cioè così come oggi nessuno è fiero di essere razzista poi è pieno di razzisti ma nessuno dice io sono razzista no così cioè magari ci sono però lo sanno che rischiano di essere menati per esempio io spero che sulle questioni di lgbt plus diciamo così si arrivi a questa stessa cosa che uno non può andare in giro a dire cose transfobiche perché la comunità non ti accetta più quindi quello che io voglio creare è consapevolezza in chi è già interessato a questi temi in modo che si creino delle zone di riprovazione sociale e che certe cose non si possano dire non perché non hai la libertà di dirle ma perché te menano perché sono sbagliate per esempio pensare che una persona cisgender sia superiore a una persona transgender queste sono le cose che secondo me come direbbe Oscar Luigi Scalfaro non ci sto questo è il senso del lavoro una mia amica Bat Chiara che è conosciuta in rete per il suo nickname una volta mi ha detto non hai messo tu i chiodi a Cristo nel senso tu non hai il compito di prenderti carico di tutti quelli che arrivano alla posizione fasciste razziste homo bi lesbo transfobiche abiliste e tutto il resto io parlo agli altri in modo che si crei una resistenza attorno a queste persone eppure nelle settimane scorse come forse molti di voi hanno sentito all'università di Torino dei gruppi di estrema destra che si chiamano FUAN FUAN Hollywood esatto hanno cioè dico così però come dire si sono sentiti legittimati probabilmente dal clima politico nazionale tanto da attaccare adesivi in tutta l'università con uno schwa sbarrato uno schwa arcobaleno esatto uno schwa arcobaleno sbarrato con scritto tipo rifiuta questi simboli tieni pulita pulita l'università ok e la sera di Halloween hanno fatto una manifestazione dicendo contro le zucche le temibili zucche di Halloween dicendo l'orrore è questo riferendosi sempre allo schwa allora io dico a partire da questi ragazzetti non so come chiamarli dell'università questi gruppi incendiano la macchina o sono i miei bici sono i miei bici a partire da questi da questi gruppi di di destra fino ad arrivare a una cosa che francamente mi ha scioccata cioè la famosa petizione su change.org a febbraio 2022 che è partita niente meno che dal direttore di Micromega Paolo Flores d'Arcais è firmata da nomi come Alessandro Barbero Ascanio Celestini Edith Brook anche Edith Brook l'ha firmata cioè una sopravvissuta ai campi di sterminio e Paolo Flores d'Arcais che cita un articolo di Guia Soncini proprio come dire ha citato Guia Soncini dicendo avrei voluto scriverle io queste parole io volevo dire ma dai cioè veramente comunque insomma cioè com'è possibile che ci sia così tanto astio verso questa cosa che tu proponevi semplicemente come un esperimento tra l'altro forse più rivolto alla lingua parlata la lingua scusa la lingua scritta la lingua dei social che non come dire adesso sostituiremo tutto ci sarà una sostituzione linguistica citando la sostituzione etnica che loro paventano invece continuamente com'è possibile? allora andiamo con ordine intanto io non ho fatto nessuna proposta nel senso che se voi andate a leggere femminili singolari nel libro del 2019 nella versione del 2019 perché oggi è uscito aggiornato nel 2021 io lì in mezza pagina in maniera anche abbastanza scherzosa rispondevo a una persona fondamentalmente una persona non binaria che mi diceva io nello scritto uso l'asterisco nell'oralità però l'asterisco non so come renderlo e un po' così d'amblè risposi a questa persona usa lo schwa invece di scrivere car asterisco tut asterisco scrivi car tut lo schwa è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale c'ha il suo porco suono quindi ce l'ha codificato quindi questa era un po' l'idea altre lingue hanno avuto meno difficoltà per esempio lo spagnolo è noto che usa questa forma inclusiva in E todos 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 uguale anche in portoghese perché la E nel loro sistema morfologico era libera da una marca morfologica e noi invece un po' le occupiamo tutte le vocali ci abbiamo la U ma caro tut o tut tu bambino sono pregato di lavarsi le mani a me non sembrava la soluzione ideale per un motivo molto non perché sembra sardo perché cioè da una parte ci abbiamo che sembra sardo e dall'altra ci abbiamo come giustamente ha scritto anche Arcangeli perché poi Arcangeli Massimo Arcangeli il professore Arcangeli che ha scritto la tradizione che poi sembra che parliamo tutti campano tutti bambini sono pregato di lavarsi le mani vabbè cioè i problemi della vita per una volta sono ben altri cioè non è che parlare campano per me sia un grande problema però vabbè tolto questo per me la U è a destra della O no? A E I O U e quindi a me semanticamente suonava come un ipermaschile un ibermaschile ok? motivo per cui quando questa persona mi ha sollecitato su un alternativo all'asterisco a me è venuto in mente qualcosa di più esotico della U cioè lo schwa ma questa era la profondità della mia risposta a questa persona non è che io avessi proposto dopodiché quella roba ha iniziato a girare lo racconto in femminili singolari 2021 no? perché ci sono aggiunte 30 pagine sullo schwa e nel frattempo scopro che in realtà c'è una persona che ha fatto una vera e propria proposta chiamata proposta per l'aggiunta di due simboli nell'alfabeto italiano che è Luca Boschetto Luca Boschetto non è un linguista è una persona diciamo che appartiene alla comunità queer e lui aveva scritto questa proposta che per una prima fase dal 2015 al 2020 ha girato sotto forma di Google Doc un po' in maniera pirata per la rete nel 2020 lui converte questo Google Doc in un sito infatti se andate online trovate italiano inclusivo che è il sito la sua proposta è una proposta strutturata cioè lui propone di usare lo schwa breve la e capovolta al singolare e il cosiddetto schwa lungo che ha vagamente la forma di un tre per il plurale è una proposta che in realtà dalla quale io mi distingo perché io come la casa editrice FQ come altri non abbiamo mai ritenuto necessario addirittura inserire due lettere due simboli diversi aggiuntivi perché poi in realtà nella pratica non si sente da tut tut cioè diventa una cosa non lo so linguisticamente non mi sembrava rilevante però lui ha fatto una proposta strutturata non io io sono una persona che studia questa roba e la studia nella maniera più laica possibile cioè la mia reazione davanti a questo tipo di esperimenti è figata da dove viene fuori come mai una cosa c'è dietro che sono le stesse domande che mi sono poste quando mi hanno proposto il problema del pernone con il stimio quando è venuta fuori Elisa esposito ma quello era un problema dei boomer comunque ma appunto ma voglio dire cioè anche noi parlavamo come dei deficienti cioè vado con la sfidinzia a prendere il panozzo cioè e infatti poi c'erano tutti gli articoli antipaninari no per dire cioè io non ho mai parlato così perché ero introversa quindi non usavo il panozzo però cioè i miei amici lo dicevano no e non mi ha mai sconvolto cioè è così i linguaggi giovanili sono così Elisa Esposito ha fatto un'operazione casomai di marketing di se stessa ma anche lì non è che si aspettava che i suoi video su adesso vi spiego cos'è il corsivo diventassero virali la viralizzazione è mal prevedibile no quindi questo è un po' tutto il resto a me ha stupito tantissimo cioè io ho studiato sui libri del professore Arcangeli io ho imparato molte cose sulla trasgressione linguistica dai libri del professore Arcangeli quando ho visto la petizione su change.org intanto ho pensato ma non sai che non serve assolutamente a una cippa di nulla cioè che è una cosa un po' boomer secondo me fare la petizione su change.org perché cioè il valore è zero no ma poi petizioni contro cosa cioè immaginatevi la petizione contro gli emoji cioè da oggi in poi nelle chat non si dovranno più usare degli emoji ma che sta dicendo questo la mia reazione davanti alla petizione contro lo Cevai è stata un po' la stessa ma stai cioè stai parlando sul serio invece un sacco di gente l'ha firmata poi molti si sono anche dissociati ad esempio Ascanio Celestini ha detto ah forse ha fatto male a firmarla a molti altri anche Andrea De Benedetti che fra l'altro è di insegna Torino che poi ha fatto il libricino per Einaudi così non ci va comunque anche lui ha detto nel libro poi dice ah non dovevo firmare la petizione quindi ma io gli volevo dire raga leggete quello che firmate cioè è molto chiaro il testo io lo porto come esempio di testo con un bias enorme dietro perché parla di cioè un mio amico un altro linguista di cui non farò il nome ha detto bisogna leggerlo con la voce dei cinegiornali luce siamo davanti a una pericolosissima deriva linguistica eh Marte è fascista avete presente poi Corrado Guzzanti ecco cioè questo è per cui tante persone si sono polarizzate hanno detto vabbè fichissima la petizione adesso salviamo l'italiano eh a me i manifesti gli adesivi del Fuan dicono una cosa come simbolo lo schwa funziona benissimo perché è ben usabile su uno striscione su un adesivo no tu fai uno schwar cobaleno lo barri tipo Ghostbusters e ti sei già posizionato in un certo modo quindi il suo lo sta facendo e non c'è bisogno che arrivi nella grammatica cioè è come il pugno alzato noi siamo animali simbolici e quindi questi simboli ci servono per posizionarci poi quale sarà la strada dello schwa mi importa fino a un certo punto cioè io immagino che le nuove generazioni quella di mia figlia oggi 14enne siccome sono generazioni fluide per definizione troveranno delle soluzioni si sistemeranno magari con un po' di trauma fra generazioni all'interno del sistema lingua senza grossi problemi oppure succederà come a me che ho provato a usare lo schwa a scuola riferendomi agli studenti e alle studentesse e la professoressa di matematica mi ha scritto per dimmi guarda che c'è un tasto della tastiera che non ti funziona vabbè età della persona? qualche anno più di me non so quanti anni hai tu? 35 e vabbè ma sai noi il nostro percorso di cioè tu sei più giovane di me io ho 47 anni quindi però credo che anche quando tu eri adolescente quindi diciamo 20 anni fa non c'era la possibilità di pensare all'identità di genere cioè io lo racconto spesso che quando vi ero ragazzina il massimo della trasgre era essere omosessuali no? cioè al massimo nel mio orizzonte di possibilità c'era l'essere lesbica ma non c'era l'idea del genere non conforme l'unico modello di persona transgender che noi avevamo come riferimento culturale e che ogni tanto esce purtroppo ancora oggi nei giornali è il trans nel senso la donna transgender possibilmente prostituta qualche settimana no ormai un mese fa no tre settimane fa nel mezzo c'è stato un giro del mondo quindi ho un po' le coordinate spazio-temporali rovinate ero a Lecce a un bellissimo festival culturale che si chiama conversazioni sul futuro ho avuto il grandissimo piacere di intervistare Alec Trenta Alec Trenta è un giovane fumettista transgender che ha scritto un bellissimo graphic novel che si chiama Barba ovvero storie di come sono nato due volte e la cosa che lui diceva è io a tre anni nato in un corpo di donna mi chiedevo come mai non avesse il pisellino come i miei amici maschi cioè io a tre anni già avevo consapevolezza che ero nel corpo sbagliato non so come dire e però lui ha avuto un grandissimo vantaggio la mamma che ha capito questa cosa e quindi viene sempre da piangere perché lui rappresenta la mamma a un certo punto come una quercia e io lì proprio ero in treno a leggere sto graphic novel stavo piangendo come una vita tagliata e la mamma gli ha detto guarda secondo me tu sei un ragazzo trans qui ci sono lo racconta nel libro qui c'è il numero di telefono di uno psicologo ti ha trovato un endocrinologo poi fai quello che vuoi se vuoi vai almeno a parlare dallo psicologo e lui racconta questo primo incontro con lo psicologo parlando del suo senso di colpa cioè lui si sentiva sbagliato nell'essere di genere non conforme il primo anno di lavoro con lo psicologo è di togliere il senso di colpa tu sei una delle varianti umane esistenti al mondo non sei sbagliato però noi siamo figli e una delle cose che lui dice che mi ha detto durante l'intervista è stata proprio questa per me il modello di trans era il trans che batte anzi la trans che batte ma non c'erano altre possibilità il percorso psicologico mi ha permesso di capire che una persona trans può fare tutto almeno tecnicamente nella nostra società se non fosse transfobica il problema di una persona non cisgender non è l'essere non cisgender è la società che non l'accetta ma la persona non cisgender è una persona che ha tutto il diritto di essere felice come le persone cisgender ti ho annientata scusami sto ancora pensando all'immagine della quercia mi è rimasto proprio è stato un incontro bellissimo se mi capita di incontrarlo o qui parlo a docenti se avete a che fare con giovani menti che si fanno si pongono interrogativi di questo tipo quel graphic novel è molto trasparente è molto semplice secondo me è anche molto come dire utile come strumento anche a scuola a meno che non abbiate la brigata anti-gender a scuola esiste anche quello bene non lo so passiamo alle domande dal pubblico che dice qualcuno vuole intervenire o ha delle domande anche perché c'è sto silenzio appunto surreale abbiamo un microfono anche gli passiamo il nostro ok allora vabbè lo just prime noctis come al solito veramente c'era prima c'era già infatti stai buono no no già ci hai fatto cambiare di post ma cosa no questi maschi alfa proprio buonasera appunto sono una giornalista e ci tenevo a riportarle questa domanda più che altro un'affermazione in questi giorni qua ad Asti ho letto un post pubblicato su facebook quindi pubblico di un consigliere comunale che scrive le cito testualmente boldrini due punti siamo lo zoccolo duro della sinistra quando le conviene parlare al maschile punti di sospensione ecco mi interessava un suo commento su come la violenza di genere si esplichi si declini anche e soprattutto attraverso il linguaggio la risposta è sì no no la violenza di genere si esprime molto bene tramite il linguaggio fra l'altro la cosa un po' patetica detta dall'assessore è che non c'entra una bene amata consigliere scusate è che non c'entra assolutamente una mazza tutto questo cioè a parte il voler arrivare a dare di zoccolo a boldrini che è evidente che era quello del senso ma intanto vorrei ragionare su questo questo aspetto squisitamente patriarcale nel modo in cui noi offendiamo le persone la prima offesa nei confronti di una donna ha sempre come riferimento centrale i presunti comportamenti sessuali di una donna peraltro quando le persone vengono a offendere me in pubblico in privato mi dicono due cose sei femminista perché non sei soddisfatta sessualmente oppure sei puttana quindi io sono contemporaneamente due cose sono frigida e puttana ma quasi tutte le femministe cioè è una delle ne parlavo con Michela Murgia anche lei sei femminista perché sei brutta e quindi non sei sessualmente soddisfatta e però sei anche zoccola quindi vabbè le due cose insieme santa e puttana comunque detto questo la donna viene offesa in base appunto al suo presunto come si offendono gli uomini figlio di suddetta puttana tua sorella troppo generosa oppure cornuto cioè in tutti e tre i casi questo non lo dico io dice Graziella Priulla che è una sociologa lo dice Lorenzo Gasparrini che è un filosofo femminista in tutti e tre i casi l'uomo viene offeso parlando delle sue donne possesso quindi oh tu hai offeso la mia donna chissà da dove viene fuori il femminicidio giusto per no? come si passa da figlio di puttana al femminicidio in questo modo qua che la donna è il possesso dell'uomo e l'integrità del maschio si misura sull'integrità della donna prima cosa seconda cosa il fatto che lei si definisca zoccolo duro non c'entra nulla con la cosa di Boldrini di voler chiamare le donne che lavorano al femminile perché zoccolo duro giustamente è un senso traslato così come io dico il mio braccio destro lei è il mio braccio destro non è la mia braccia destra perché non siamo mica deficienti che non conoscono la morfologia dell'italiano quindi questo più o meno io lo situerei all'altezza di allora da domani io mi chiamo pediatro che ho sentito ci ho litigato online l'ho sentito dire a uno dei nostri più famosi virologi italiani di cui non farò il nome ma che in una discussione sui femminili professionali ha avuto questa mirabile uscita plurilaureato pluri addottorato ma evidentemente di lingua ignorante come le capre come il nostro amico questo è il mio commento ah vabbè io non voglio sapere meno so meglio sto sono come le scimmiette però ma quindi a questo punto direi che tutti vogliamo sapere vogliamo almeno un commento sulla questione della presidente il presidente scusaci ma non possiamo cioè io ho cercato di evitarla fino alla fine ma credo che un po' di attualità insomma ma no ma allora dunque qual è tradizionalmente la compagine politica che ha sempre richiesto da un po' di tempo da diverso tempo richiede l'uso dei femminili professionali quella progressista l'onorevole Meloni non ha fatto nulla di diverso tanto onorevole viene bene no perché è ambigenere quindi non occorre dire onorevola l'onorevole non ha fatto nulla di diverso da quello che ha sempre fatto la sua compagine politica cioè quando Elisabetta Alberti Casellati venne eletta presidente del senato una delle prime cose che vennero fuori fu che qualcuno gli chiese presidentessa o presidente e lei rispose il presidente e finita l'era dello sceno presidenta che era un'invenzione dei giornali di destra per squalificare Laura Boldrini Laura Boldrini davanti a un un deputato Savassandir leghista scusate un deputato leghista che continuava in sala in aula a chiamarla signor presidente lei dopo un po' di volte che l'aveva ripreso dicendo signora presidente no io la chiamo signor presidente e allora lei rispose tipo va bene signora Mario Rossi non mi ricordo insomma rigirò la frittata questo video c'è su youtube quindi lo potete vedere il giorno dopo uno di questi giornali credo quello che si chiama giornale perché se no nessuno se ne accorge che è un giornale titolò l'accademia della crusca dà ragione a Laura Boldrini e dice che è presidenta è corretto in realtà presidenta non l'ha mai voluto nessuno è un'invenzione proprio fatta apposta per sputtanare Laura Boldrini diciamolo pure tanto per usare un termine poco connotato quindi quello che ha fatto Giorgia Meloni a me non ha stupito neanche mezzo secondo cioè io sarei rimasta stupita se Giorgia Meloni avesse detto chiamatemi la presidente ha fatto quello che è esattamente nel solco del suo partito quello che vi invito a notare è che sono giorni che veniamo menati per il belino su cose di zero importanza distraendoci da robe ben più importanti cioè mi sembra che una delle qui finisce il mio lavoro come ricercatrice all'università però mi sembra che proprio una delle tattiche impiegate in questo momento storico sia quella di dare al popolo ogni giorno un motivo per indignarsi mentre sulle cose importanti poi si firmano decreti per evitare che le navi delle ONG possano raccattare i disgraziati dal Mediterraneo e cose diciamo così ben più rilevanti siamo tutti lì a discutere di il presidente la presidente la presidentessa fai come vuoi il rave è il problema principale in Italia in questo momento sì però però coglie un sentimento che è molto diffuso eh questi giovani doggi che si drogano ma voi siete mai stati a un rave io sì anche senza drogarmi ho ballato tutta la notte mi sono drogata di musica è stato fichissimo cioè non è esattamente come la raccontano capito? stiamo creando delle sacche di opinioni però cioè il rave è un'altra di quelle cose che fa paura perché nessuno sa esattamente cosa sia cioè io ho un amico a Milano che fa degli eventi notturni che ok non li chiama rave ma sono come dire dei balli che durano tutta la notte con musica techno all'interno di capannoni abbandonati ma regolarmente pagati e affittati quindi i rave sono una cosa molto più borghese di quello che non sembri sarà mica il problema degli italiani adesso il rave dai a quanto pare sì Riccardo quindi vuoi farla questa domanda prego ah va bene ok ah ok andiamo per volete il microfono non so se per la registrazione per gli atti per gli arresti sì sì no ma guarda vabbè allora siamo più di 50 qui bene però non sono quella non sei quella ecco immaginavo no no due interrogativi allora il primo si ricollega a Illa presidente bla 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 ed è molto vicino anche al discorso di di Alec 30 ovvero come associazione noi proviamo a sensibilizzare sull'utilizzo della carriera aglias l'adozione della carriera aglias nelle scuole la carriera aglias per chi non lo sapesse sarebbe anche molto semplice da adottare un po' più difficile da insegnare forse però vuole semplicemente dire che se c'è una persona transgender all'interno della classe i professori il personale scolastico eccetera vengono educati a utilizzare il pronome e l'articolo che questa persona appunto sceglie per sceglie e si sente per se stessa ecco questa cosa l'attuale presidente del consiglio ma non solo ovviamente è da tempo che la non la vuole la osteggia grazie mille io dovrei ecco che la osteggia in modi diversi ma non per se stessa ovvero l'utilizzo dell'articolo il presidente nulla a che vedere con la transessualità essere transgender nella carriera aglias però la possibilità di dire come farsi chiamare alle persone nonostante questo non dipenda spettamente dall'identità di genere a parmi è un po' un diritto che si è arrogata visto la sua posizione politica eletta democraticamente e quant'altro la presidente del consiglio diritto che viene invece negato alle persone per cui invece sarebbe fondamentale per vivere in pace con se stesse e con gli altri quindi chiedevo una riflessione in merito all'importanza dei pronomi dell'articolo per la carriera aglias anche se un po' c'è stata anche prima sempre rimanendo in tematica lgbtqa plus il la 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 colorata arcobalene ecco secondo me un ragionamento anche in merito a questo ovvero la 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 è anche quella lettera che può aiutarci quel suono che può aiutarci a non dover scegliere se scrivere prima tutti o tutte o dire prima tutti o tutti quando noi iniziamo un discorso ecco spingerla in un angolo diciamo e relegarla con i colori arcobaleno secondo me è la prima tecnica che utilizza un certo tipo di politica di estrema destra per non farci vedere un altro problema che si ritorna a questo punto cioè la società patriarcale quindi io trovo che sia pericolosissimo sia per i sostenitori della SVA che per i detrattori relegarla ai colori dell'arcobaleno grazie avete tutta la sera poi qualcuno mi accompagna a Milano perché perderò il treno grazie ovviamente io penso che il parallelismo affermazione di genere e uso dei maschili per le donne in ambito professionale è un paragone inopinato cioè è un paragone sbagliato infatti io l'ho visto fare a tantissime persone della mia bolla e mi sono infastidita molto cioè una cosa è la richiesta sacrosanta di persone di genere non conforme che sono parte della comunità dei parlanti come il resto cioè non hanno nulla in meno di essere chiamate in un certo modo cioè io questo come avete presente io sono Kunta Kinte è importante avere la possibilità di definirsi e di autodefinirsi in un sistema sociale che a lungo ha definito i diversi cioè ha dato dei nomi ai diversi laddove i diversi non avevano voce in capitolo c'è una cosa di cui parla Claudia Bianchi in un bellissimo libro che si chiama Hate Speech il lato oscuro del linguaggio che è l'ingiustizia discorsiva l'ingiustizia discorsiva è non avere modo di fare cose con le parole perché sei fatto in un certo modo sei nero sei lesbica sei con disabilità sei grasso sei povero dimentichiamoci sempre la porofobia se è una società porofobica a cui fa schifo il povero perché il povero in una società della performance è qualcuno che non ha performato bene quindi l'ingiustizia discorsiva della comunità di genere non conforme è di non aver potuto scegliere per sé come chiamarsi in un sistema che nasce quando si pensava che i sessi biologicamente fossero due da quando esiste la genetica noi sappiamo che i sessi non sono due è uno spettro quello dei sessi è uno spettro con due poli prevalenti quello XX e XY e un monte di combinazioni altre non solo in termini di malattia tipo il Kleinfelter ma semplicemente combinazioni cromosomiche diverse da XX e XY siccome questa cosa tange 1,7% della popolazione perfino qui dentro ci potrebbe essere una persona non dichiaratamente non binaria non dichiaratamente transgender che sta benissimo com'è ma che se fa un'analisi cromosomica scopre di non essere XX e XY di solito si scopre quando si cercano di fare figli e i figli non vengono e allora uno fa un'analisi un quadro genetico ok? no, tolto questo l'altra questione è la questione di sentire il maschile come prestigioso rispetto al femminile questo è uno dei cavalli di battaglia patriarcali della destra ok? quindi io sono un avvocato perché ho lavorato tanto per avere questo titolo non lo svilirò col femminile il che la dice lunga su come vedono la donna no? questo genere di persone quando Giorgia Meloni è stata eletta pres del cons un sacco di persone mi hanno scritto dicendo ecco vedete voi femministe che non siete neanche felici perché lei ha sfondato il soffitto di Cristiano ma perché dovrei essere felice? una donna che sia perfettamente adeguata ai costumi patriarcali che con metodi patriarcali raggiunge il potere a me non mi dice nulla questo non sono felice per il dato biologico perché è un'altra cosa essere femministe rispetto a quello che sta succedendo oggi in Parlamento abbiamo da tanto tempo donne di destra al potere Liz Truss ma anche a suo tempo Margaret Thatcher cioè anche Sanna Marin non è esattamente sto fiorfiore di progressista quindi evidentemente il dato biologico conta fino a un certo punto però e questa è una cosa quindi le due cose secondo me vanno tenute separate chiaramente Giorgia Meloni è una donna etero cis che pensa di avere il potere di scegliere per sé il maschile questo stesso diritto viene tolto alle persone non cis che lei come tutta quella compagine lì considera sbagliate questo è il punto cioè invertiti malati gente che dovrebbe andare da un psicologo perché è sbagliata e quindi come fa una persona sbagliata secondo i miei canoni ad avere pretese ringrazia il cielo che non ti metto in manicomio questo è un po' il senso nell'ultimo famoso comizio quello di Sassari in cui questo sedicente perché non ho poi approfondito però leggevo che Simone Alliva aveva molte perplessità su quello che era successo comunque questo sedicente attivista LGBT che irrompe sul palco di Giorgia Meloni e chiede il matrimonio egalitario e lei cosa gli risponde avete già le unioni civili questo cosa vuol dire che io normale decido quanto includere te che sei diverso ma non ti considero la mia altezza tu sei lì e io ti posso far pasturare ai bordi della società ma non sei come me questo è il senso dell'operazione quindi Giorgia Meloni pensa di poterlo fare ma non vuole che questo diritto ce l'abbiano gli sbagliati tutto qua cioè penso di avere risposto in maniera abbastanza ora il punto è che nella mia visione queste sono tutte manifestazioni della diversità della varietà umana chi ha deciso che l'etero cis è meglio del non etero non cis chi l'ha deciso quando e perché dovrebbe continuare a essere così oggi c'è qualcuno davvero qui dentro non credo perché se siete venuti qua ma che pensa che i neri siano inferiori o che le persone con disabilità siano inferiori io spero di no la porofobia è quella cosa per cui se ti si accosta un homeless un senza fissa dimora la reazione di che vuole questo ce l'ho perfino cioè poi mi controllo e dico cavolo perché oppure penso che la soluzione sia metterli tutti a dormire nei dormitori io ho parlato poi ogni tanto con le persone senza fissa dimora che mi dicono ma è molto meglio il cartone sotto l'arco che non in mezzo alla gente che puzza no? cioè però è difficile cambiare punto di vista prevalente c'è questo libro bellissimo che io spaccio sempre in tutte le occasioni che è lingua e essere di Kübra Gümüşay è un fandango Kübra Gümüşay è un'autrice tedesca di origine turca e lei dice il grande sforzo del presente e del prossimo futuro è relativizzare il punto di vista perché noi comunque abbiamo un punto di vista bianco occidentale maschio centrico etero cis borghese anche se non ce ne accorgiamo e questa cosa viene fuori continuamente non sono razzista ma non ho nulla contro i gay però che non si baciano in pubblico perché insomma signora mia non si può vedere eccetera 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 e questo forse è quello che dobbiamo cercare di fare un po' a tutto no? di capire il limite della nostra capacità di vedere il mondo con occhi altri molto piacere certo possiamo darci del tu perché veramente mi sentate ecco ma adesso bisogna specificarlo grazie a tutti Grazie. Allora, intanto, grazie a Dio, sono tre anni che non sto più in Crusca. Nel senso che nel 2019 mi sono emancipata, ma per una questione di... avevo bisogno di... avete presente Rapunzel? Vai e vivi il tuo sogno. Ecco, avevo bisogno di vivere il mio sogno. Dopo vent'anni, io ci ho passato vent'anni, quindi mi sono formata lì dentro, però a un certo punto è stato come un divorzio. Io sono anche divorziata, quindi posso anche fare i pari... è stato più difficile divorziare dalla Crusca che non dal mio ex marito, nonché padre di mia figlia, però a cui invece voglio sempre tanto bene. Detto questo, è che il fatto dell'eufonia è molto personale. Per esempio, io amo il tedesco. La maggior parte delle persone mi dice che il tedesco suona tutto nazista. Non è vero, cioè se tu senti parlare un berlinese, per dire, no? È la cosa più bella del mondo. A me personalmente non piace il francese, perché mi si mette un po' il francese. Ma non andrei mai a dire in giro, a dire il francese è brutto, capito? Per cui, allora, nella lingua di tutti i giorni noi usiamo le parole perché ci servono, non tanto perché sono eufoniche o cacofoniche. Cioè io faccio sempre le stesse battute. Transustanziazione, isterosalpingectomia, tungsteno, glicine. Come fa una pianta così bella, che in inglese si chiama wisteria, a chiamarsi glicine. Che ci ha fatto di male? Non poteva avere un altro nome. Glicine mi sembra proprio brutto come nome, però voglio dire, è la mia percezione personale. Quindi, da una parte, ovvio che anch'io scelgo le parole spesso in base al suono che piace a me, ma esattamente come ci si innamora delle persone più varie, no? Che per me, il mio compagno, l'uomo più bello del mondo, magari un altro lo vede e dice che è sto scorfano, no? Ma è normale, così come viceversa, spero. Così uno può amare una parola e qualcun altro odiarla. Sulla questione etichette identitarie, secondo me c'è un'altra questione, un altro dato che si incrocia. Se io posso usare una parola che ti fa stare meglio, oppure io posso usare una parola che ti offende, posso scegliere, no? E' inutile che io dica, no, ma in inglese la n-word, in latino la n-word, no? Si pensa per il ribes nigrum, no? Non si usa certo in maniera offensiva. Però io in pubblico la n-word, la parola con la n, non la dico, perché so dai miei amici neri o afrodiscendenti che per loro è come uno schiaffone in pieno viso, no? E quindi, oltre alla questione di eufonia e cacofonia, penso anche all'effetto che la mia parola ha sul diretto interessato. Quindi ascoltando le varie comunità ho imparato tantissimo, che non sapevo. Per esempio, ho avuto meno a che fare tradizionalmente con le persone con disabilità e quindi anch'io facevo l'errore di dire non vedente, che sembrava più gentile di cieco. Poi, con i ciechi, ho capito che cieco va benissimo. Un cieco una volta mi ha detto, ma tu vorresti essere non uomo invece di donna? Io preferisco cieco che non non vedente, perché non vedente è la prospettiva del vedente che appiccica l'etichetta al non vedente, al cieco, appunto. Ecco questo. Così. È la fine? È finito? Ma che ore sono? Ah, ok. Che io avevo ancora qualche domanda in realtà. Ma anche dal pubblico c'erano altre domande, no? Eh, ma è la stazione qua di fianco. 10 minuti. 10 minuti. Ok, però magari per firmarli. Ah, giusto. Fai l'ultima domanda, dai. Cercherai di essere breve. No, no, vabbè. Vediamo solo. Quindi? Ah, ok, niente. Vabbè. Se vuoi. Dai, dimmi cosa. Dai. Petaloso è un esempio di creatività, creatività, come dire, di un bambino, tra l'altro perfettamente dentro alla norma, nel senso che abbiamo aggettivi in oso, il bambino Matteo, dico sempre l'unico Matteo di cui mi piace parlare, il bambino Matteo di Copparo, in provincia di Ferrara, semplicemente piega la lingua a una sua necessità, cioè lui deve mettere due aggettivi per il fiore e decide di usare profumato e petaloso. La maestra, che il caso vuole si chiami Margherita, è vero, la maestra Margherita, che è bellissimo, la maestra Margherita glielo segna errore, ma siccome è una rodariana di ferro glielo segna errore bello, e su questo errore bello lei fa una bellissima lezione sulla neologia. Cioè, voi lo sapete da dove vengono le parole, la maggior parte delle persone non lo sa. Come si formano, chi le crea, ecco, la risposta è tutti. Con una particolare tendenza alla neologia, insida nei bambini, perché i bambini non si fanno tante pippe, no, ho bisogno di una parola, la creo. Sedia, sediarsi, no, si dice sedersi, no, poi noi li correggiamo. E li sagomiamo come certe piantine da giardino, che poi hanno un'aria un po' deficiente. Presente quando tu esageri a sagomare il tasso, no, il tasso nel senso di pianta. Invece bisognerebbe aiutarli a crescere, ma senza sagomarli come dei cespugli scemi, no? Questo è un po' il mio punto di vista. Quindi io penso tutto il bene possibile di Petaloso. Tutto il casotto che c'è stato attorno mi rinforza ancora di più nell'idea che bisogna insegnare la linguistica a scuola. Portare un pochino di sociolinguistica a scuola. Dare la percezione alle persone che nel cambiamento linguistico c'è la sopravvivenza della nostra lingua, non viceversa. Cioè, se la nostra lingua smette di adeguarsi ai nostri bisogni quotidiani, muore. E noi cambiamo sistema linguistico di riferimento. Infatti, appunto, l'ultima cosa che ti volevo chiedere era, in questo non credono invece quelli che tu chiami i linguapiattisti, giusto? O anche i grammarnazzi, insomma, no? Che poi siamo sempre in quell'ambito lì. Il linguapiattista non ne vuole sapere. La realtà linguistica è come gliel'ha descritta la maestra Rosina 35 anni fa e non c'è verso che si cambi di lì. No, le regole, ci sono le regole, ma non ci sono le regole. Le regole si cambiano perché cambia la comunità dei parlanti. Ma una cosa di buon senso, vi ricordate il pantarei? No? Allora, noi cambiamo continuamente. Le relazioni cambiano continuamente, cioè la società cambia continuamente, la realtà cambia continuamente. Se la lingua è lo strumento che noi usiamo per definire noi stessi, le nostre relazioni e la realtà, come potrebbe la lingua essere immobile? Cioè, è proprio una roba che non sta né in cielo né in terra. Certo, qui c'è Wittgenstein che corre potente nelle tue vene, sì. Esatto, no, ma è vero, cioè, Hjemslew, Louis Hjemslew, che è un grande linguista danese del passato, diceva che la lingua è come una rete che noi buttiamo sulla realtà. È intuitivo che seguendo questa immagine, più questa rete ha maglie strette e più raccoglie cose della realtà. No, e quindi se noi rinforziamo la competenza linguistica, sapete cosa arriviamo a rinforzare? La democrazia. Questo è quello che diceva De Mauro, in purezza, e io condivido al 110%. Ed è quello con cui hai cominciato. Ed è quello con cui hai cominciato. Quindi chiudiamo il cerchio e ti ringraziamo. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti.